Gentili telespettatori, buona giornata. Io capisco che i giornali siano schierati. Ci sono quelli schierati a destra e quelli schierati a sinistra. Ma dico io però un po' di obiettività. Perché bisogna raccontare le cose in un certo modo per far credere ai lettori e all'elettorato che le cose siano diverse? Perché i muri ideologici devono portare a raccontare le cose in maniera diversa per far distorcere la realtà? Allora, leggo titoli. I comuni non aderiscono allo sconto del governo e boicottano lo stralcio delle multe. I comuni cattivoni non vogliono fare lo sconto del governo. Lo sconto? Ma che cos'è lo sconto? Boicottano lo stralcio delle multe. Cioè i comuni cattivi contro i cittadini non vogliono applicare gli sconti del governo. Ma cosa sono questi sconti? Stiamo parlando del condono fiscale. Vuol dire dire da quest'anno a quest'anno chi non ha pagato facciamo finta di niente. Dai, amici come prima. E quelli che hanno pagato? È bravo. Eh? Come diceva Crozza. È bravo. Quindi voi avete pagato? Bravi fessi. Eh sì. Eh sì. Se voi aspettate che ogni tot tempo arriva un politico che vi promette un condono fiscale, ecco. Il condono fiscale l'hanno chiamato pace fiscale. Si pace e bene agli uomini di buona volontà. Io sono sempre stato contro il condono fiscale. Cosa vuol dire? Che è irrispettoso e discredita chi ha pagato. Immaginate tutti quelli che hanno pagato. Arriva qualcuno che vi dice adesso fa niente. Non hai pagato? Fa niente. Allora per essere coerente se dici fa niente a chi ha pagato dovresti dire un'altra cosa. A tutti quelli che hanno pagato gli restituiamo i soldi. Così tu che non hai pagato fa niente. Tu che hai pagato ti ridò i soldi. Invece non è così. Chi ha pagato ha pagato e chi non ha pagato amici come prima. Vi sembra una roba normale? Eh ma c'è chi ha avuto difficoltà. Ho capito. Ho capito. È una giustificazione? Non paghi se sei in difficoltà? E allora quello che paga non potrebbe essere in difficoltà? Comunque la legge e le tasse non si pagano in base a se sei o no in difficoltà. Si pagano appunto e basta. Questi famosi comuni che non aderiscono allo sconto del governo, è ridicolo un titolo del genere, lo sconto del governo, in realtà il governo non ha fatto nessuno sconto. La Meloni ha detto chiaramente, visto che queste cartelle esattoriali, che Salvini vuole cancellare, queste cartelle esattoriali fino a 1000 euro fanno parte dell'85% delle somme che il comune riscuote, cioè la parte maggiore dei soldi che entrano in un comune arrivano proprio da quelle cartelle fino a 1000 euro. Se vengono cancellate i comuni sono rovinati. Così la Meloni dopo le prime proteste dei comuni ha detto va bene, ogni comune sceglierà se cancellare le multe oppure no. Ma attenzione, venivano escluse le multe stradali. Rimaneva ben poco, molto poco da cancellare, perché la gran parte sono multe stradali. Pertanto si cancelleranno, se i comuni vogliono, non le multe stradali. Che rimane? Altre cose. Altre ed eventuali. Pertanto in realtà quel condono fiscale non c'è. C'è sulla carta ma non c'è. Perché il 99,9% sono multe, non sono altre cose. E le multe si devono pagare lo stesso, dice il governo. Mentre per il resto, quel resto che non si capisce cosa sia, i comuni decideranno. Ma non è uno sconto del governo. Ma cos'è sta roba dello sconto? Ma come fate anche a mettere dei titoli del genere? I comuni non aderiscono allo sconto. Ma questa è una roba ridicola. è un'offesa all'intelligenza dei lettori. Non aderiscono allo sconto del governo. È come se il governo avesse detto, non lo so, facciamo uno sconto del 15% su quella cosa, però il comune potrebbe non aderire e allora niente sconto. È così. Io sono contro i condoni perché sono immorali. Salvini ha insistito, la Miloni gli ha messo sta specie di condono perché serviva a tenere buono Salvini, visto che in combutta con Berlusconi potrebbero far cadere il governo. Allora la Miloni ha promesso a Salvini di realizzare le sue bandierine e una delle bandierine era proprio sto condono che alla fine doveva essere 5.000 euro, poi 3.000, poi 2.000, poi è rimasto 1.000 euro, facoltativo, il comune può decidere di fare o non farlo, ma non è sulle multe. Quindi su cos'è? Su poca roba. È un condono edilizio simbolico, cioè nella finanziaria c'è scritto condono edilizio ma non avviene proprio perché la maggior parte sono multe e le multe sono escluse da questa specie di condono. Sono pochi infatti i comuni che avrebbero deciso di condonare le multe a chi non le ha pagate, ma anche i comuni di centrodestra non lo stanno facendo. Perché? I primi cittadini dicono ma cosa vuol dire una roba così? Quelli che l'hanno pagato cosa sono? Dei fessi? Eh non va bene, le cose o le pagano tutti o non le paga nessuno come vi dicevo prima. Se vuoi restituire i soldi, restituisci i soldi a chi ha pagato se vuoi non far pagare quelli che non hanno pagato. La legge e le tasse devono essere uguali per tutti. Non ci sono giustificazioni. Vabbè dai vado su al governo, quello che mi dovevi dare non me lo dare, però ricordati alle prossime elezioni che ti ho aiutato, non ti ho fatto pagare la multa. Ecco, per me è immorale e i primi cittadini la maggior parte stanno facendo la stessa cosa che avrei fatto io. Devi pagare la multa e la paghi. Ma scusa non me la cancelli, perché te dovrei cancellartela? E quel tuo vicino di casa l'ha pagato tutto? Perché a te dovrei cancellarla? Perché sei più bello, più intelligente? O perché voti quello lì? No, la paghi. Non ce li ho. Eh rimane lì, la pagherai prima o poi. Pertanto, cari giornali, che parlate di sc... i comuni non aderiscono allo sconto del governo è proprio ridicolo. Ma quale sconto? avreste dovuto scrivere i comuni non aderiscono all'affinto condono che la Meloni ha fatto per far contento Salvini. Insomma, diciamo che il titolo potrebbe essere completamente diverso. Arrivederci a tutti e grazie.